Questo sabato ci sono delle disfide fra quattro ragazzi, a due coppie però, dell'alberghiero Veronelli, della sede di Vassamoggia, ispirate al cinema, ovvero ispirate a Giulietta Masina, alla Melato e alla Vitti. Poi ci sarà Gloria Brolati, che è una giornalista blogger molto famosa, legata all'etica del cibo, che ci farà vedere una ricetta molto carina tra l'altro. Poi avremo in certi una sorta di talk show, una sorta di talk show in questo senso, perché sono più testimonianze, sono messaggi. Poi si potranno fare domande alla fine, ma comunque questo è un po' il concetto, per cui passeremo dall'assessore all'agricoltura Daniele Ara, al dottor Gagliano Diera e ai loro podcast legati all'acqua con grande sensibilità. Parleremo di particolari cibi bolognesi, con Duccio Caccioni, presidente della Deco, e poi di lupolo, e poi di orto in casa, sempre nell'ambito di un discorso sostenibile, e tanto altro ancora. Quindi molto interessante per i giovani e anche per i genitori, o quelli meno giovani, perché sono argomenti interessanti. Il cibo a Bologna ha un ruolo anche culturale molto importante, ed è giusto sostenere e moltiplicare anche tutti quelli che sono gli eventi legati al cibo. La cultura del cibo, come Deco, come Commissione Deco, ovviamente abbiamo l'interesse a valorizzare questi prodotti a denominazione comunale, lo devo ricordare. La Commissione Deco è nata da pochissimo, sta lavorando tanto, vogliamo valorizzare altri prodotti, abbiamo già una lista di prodotti che possono vantare la Deco dal tortellino alla tagliatella, alla ragù alla bolognese, fino ad arrivare all'olio dei colli bolognesi. La sostenibilità è proprio insita nel DNA del gruppo ERA, da vent'anni ci occupiamo di sostenibilità tutto tondo, dai nostri impianti, dai nostri progetti, con le nostre risorse, con le iniziative, a favore di tutto quello che può essere un'attenzione per la transizione ecologica, l'economia circolare, la sostenibilità ambientale e sociale. In particolare noi siamo a fianco a questa iniziativa perché vogliamo raccontare ai giovani, alle generazioni più giovani, come si può essere sostenibili in diversi modi. Lo abbiamo fatto anche con nuovi strumenti di comunicazione, come i podcast, ne abbiamo realizzati tre, e racconterò questi progetti così come noi facciamo tante iniziative, tanti percorsi didattici nelle scuole, coinvolgendo oltre 100.000 studenti negli ultimi anni. Quindi è per noi innanzitutto un cambiamento che deve essere culturale a favore delle nuove generazioni.